Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nalte, questa è una nuovissima, pillolissima di Gossip. Da giorni non si parla d'altro che della Dios di Fabio Fazio alla Rai. Ormai lo sa tutti, anche il mio gatto, dopo 40 anni passati al servizio della TV pubblica, che poi pubblica ci sarebbe da parlarne, il conduttore di Che Tempo Che Fa ha deciso di far sloccare sul canale 9 di proprietà di Discovery, la piattaforma che fa capo alla multinazionale Warner Bros. Diciamo non sono briscoline, ecco. Secondo le ultime discrizioni, Discovery riserverà un'accoglienza da Nababbo al nostro super Fabio Fazio. Si parla, mi viene da ridere, solo raccontarvelo di cifre astronomiche, visto che è emerso che il conduttore guadagnerà 2,5 milioni di euro netti all'anno. Aspettate, visto che il contratto stipulato tra le parti ha durata quadriennale, ovvero 4 anni, i costi sono presto fatti. Discovery lo ricompenserà con ben 10 milioni di euro netti. Ora, 10 milioni è una cifra che è fatica anche immaginarla, no? Comunque, questo è così. Insomma, Fazio non si può certo lamentare, no? C'è chi dice, oh, poverino, l'hanno mandato via dalla Rai. Ma che ben venga! Mandassero via anche me dalla Rai, se poi... Qualcuno potrebbe stupirsi di queste cifre. Il mio gatto, quando l'ha sentita, praticamente gli si è rizzato il pero, ancora lì fermo, un po' in simil catalessi, ma va detto che in realtà questi compensi risultano in linea con gli standard televisivi attuali. In Rai, per esempio, e questa è la cosa comica, Fazio percepiva 2,2 milioni di euro all'anno. Quindi di meno. Ed era il conduttore più pagato dall'azienda di Valle Mazzini. Questo non sono io certo a dirlo. Se si guarda invece Mediaset a parità di qualità professionale, i compensi dei conduttori sarebbero addirittura più elevati. Si parla di... Vabbè. Sicuramente il canale 9 ha messo a segno un colpaccio, giudicandosi Fabio Fazio. Speriamo, speriamo per loro. Avere un conduttore con la sua experience non potrà far altro che attivare nuovi telespettatori. Speriamo, speriamo. Già da tempo questo canale sta acquistando sempre più pubblico. Eh sì, perché gli sta pian piano, eh? Si sta rappicando, gli sta facendo delle scarpe un po' a tutti, questa Discovery con tutto il suo network. Anche grazie al programma di Maurizio Crozza, che a me sta simpaticissimo, o a quello di Gabriele Corsi, ma non solo. Insomma, un canale in ascesa e l'arrivo di Fazio non potrà che giocare ancor più agli ascolti. Praticamente tutti coloro che sono andati in Discovery gli ha nata benissimo. Anche la Volpe. Vabbè, niente. È la Volpe, l'Uva, la Cerba, avete presente, no? Vabbè. Fazio, scusate, piccolo gioco di parole, Fazio non sarà solo lui però a traslocare su 9, visto che anche la sua spalla Luciana di Tizzetto lo seguirà in questa nuova avventura. Praticamente ha detto Ah, Lucianini, vieni, 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 ce la faccio gli schese. E Lucianini, vieni, 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 è bellissimo. Bisognerà, già immagino la scena, bisognerà quindi aspettare la prossima stagione per vedere se l'effetto Fazio porterà i benefici sperati a questo canale targato Discovery. Eh sì. Detto questo, si continua a parlare dei motivi che avrebbero spinto Super Fazio a lasciare l'azienda Rai dopo tanti anni di onorato servizio. In particolare ci si è domandati come mai il Rai non abbiano spinto per fargli rinnovare il contratto. Se lo avessero fatto, magari il conduttore non avrebbe cominciato a guardarsi in giro e non gli sarebbero piovute offerte così allettanti. La presidente Marinella Soldi, il CDA Rai, hanno sottolineato che la questione del rinnovo del contratto di Fazio non era stata presentata in consiglio di amministrazione. Quindi, praticamente, se ne fottono. C'è, oh sì Fazio, sì, vabbè, c'è o non c'è, non gli cambia niente. E questo fa molto pensare a come funzionano le cose in Italia perché indipendentemente dal fatto, scusate se divago un po', dal fatto che possa piacere o non piacere, per esempio, io non è che mi faccia impazzire, però è un grande professionista. Sicuramente, comunque, è uno dei pochi, Fazio, che fa guadagnare alla sua rete più di quello, più del suo costo, diciamo, capito? E ovviamente loro se lo lasciano andare, ma tipico italiano, no? Quando c'è uno valido, via, fuori dalle spelotas, vai verso altri orizzonti e portare i soldi alla Warner Bros. alla fine, che tutto è, ma non italiana. Vabbè, adesso ci sarebbe da parlare per mezz'ora, ma me ne sto zitto. Quindi, comunque, sicuramente è un grave errore da parte della Rai, visto che il conduttore non ci ha pensato due volte e ha accettato al volo un'offerta più che allettante, perché la Rai avrebbe potuto dire, ma no, Fazio, ma resta con me, non me la so, non te non no, resta con me. E invece no, detto questo, detto questo, ragazzi, ho paura a chiedervelo. Cosa ne pensate di questo compenso astronomico? Si sapeva già che Fazio era uno dei più pagati del panorama televisivo, eh? 2,5 milioni di euro per quattro anni, ovvero 10 milioni di euro. Ma, ragazzi, ma vi rendete... A me a volte... Non so neanche come dirlo. 10 milioni di euro è una cifra che il 99% delle persone al mondo non si ha l'immagine, ma neanche in una vita. Lui in quattro anni, eh? Interessante, vabbè. Comunque, le cose vanno così. Che ci piaccia o no? Fatemi sapere questo altro che cosa ne pensate. Anzi, prima di lasciarvi, voglio darvi... Voglio farvi una domanda così, un po' fuori dalle righe. Se voi domani vi svegliate nel vostro candido lettino e improvvisamente vi trovereste 10 milioni di euro nel vostro conto corrente, cosa fareste? Me lo scrivete questo altro nei commenti che sono curiosissimo, veramente. Poi dopo che me l'avete letto voi, magari ve lo dirò anch'io. Ci devo pensare, ci devo pensare, comunque. Va bene, detto questo lo sapete. Mettete like se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, scampanate se non l'avete ancora scampanellato e ci vediamo al prossimo video. Ciao, bedazzi!